Il ragazzo, coinvolto nella rissa della settimana scorsa in viale della Pineta a Pescara, che portò alla morte di Tiziano Polucci, ha inviato una lettera di scuse alla famiglia del 56enne. Secondo le ricostruzioni, Polucci e il 19enne si picchiarono vicendevolmente, per futili motivi, forse per una manovra di parcheggio. Nello scritto, il ragazzo, appena diplomato al liceo classico, si è detto angosciato e sconvolto e rivolgendosi alla famiglia, spera che questi possano sopportare il dolore e perdonarlo. «Sento sulle mie spalle la responsabilità dell'accaduto», ha ammesso il 19enne, anche se si è trattato di una tragica fatalità. Il ragazzo, infatti, ha precisato di non essere scappato, ma di essere andato via quando Polucci, che si è accasciato a terra poco dopo, era ancora in piedi. Ha poi scoperto del decesso del tollese e solo una volta raggiunto dai carabinieri. «Non lo dico per lavarmi la coscienza», ha concluso il 19enne, «ma tutti dovremmo sentirci responsabili per l'accaduto». Mentre il ragazzo risulta indagato a piede libero, l'autopsia svolta ieri sul corpo della vittima pare non aver chiarito le cause del decesso. Si parla genericamente di arresto cardiocircolatorio, ma si dovranno attendere ulteriori esami per capire meglio ciò che è successo.